E a poter portare frutto per questa chiesa, nel nome di Cristo Gesù te lo chiediamo, Amen E a poter portare frutto per questa chiesa, nel nome di Cristo Gesù te lo chiediamo, Amen E a sua prizione, personelle, consagrata, dici una carica di missionaria, la posta di missionaria O termo di carica di riconoscimento è così, percorrarsi… Ma riconoscimento di missionaria E siamo a tre casano e si… Grazie a tutti.